Oggi nella Basilica di San Paterniano è stato il momento del commiato ad una delle anime artistiche di Fano. Alle 15 si è celebrato il rito funebre per Carla Fucci, mamma di Flora Gianmarioli, presidente in carica dell'ente carnevalesca, figlie d'arte dell'artista Melchiorre Fucci e Maria Mocchi, attrice dalle indubbie qualità tramandate ed instillate anche alla figlia Maria Flora. Anche lei attirata dalle polveri del palcoscenico alle quali la madre ha esortato sino all'ultimo la figlia a ricalcare, quasi a non voler spezzare il talento di famiglia. Oggi in chiesa c'erano chi l'ha amata, chi l'ha conosciuta e chi le ha voluto semplicemente bene e chi è stato pervaso dalla sua bontà e gentilezza d'animo. Una donna di altri tempi con un'educazione ottocentesca, senza compromessi, dove garbo e buona educazione non erano concetti abdicabili, con lei si rigava dritto, come ha voluto ricordarla il marito Antonio in una lettera recitata per suo conto dall'ambone della chiesa con timbro teatrale, come si addice a una grande attrice. Anche gli amici e i colleghi di avventura della carnevalesca erano presenti alla funzione a stringersi attorno alla loro presidente per far sentire tutta la vicinanza e il sostegno in questo momento di raccoglimento e di dolore, ma che cade, ironia della sorte, anche in un momento topico e particolare per l'ente. Questa sera, infatti, è in programma uno storico passaggio dell'epocale per la lente carnevalesca, un cambio di statuto, proprio nel giorno dell'ultimo saluto alla madre. Ma la lunga giornata per Carla e con Carla è iniziata da questa mattina, dove proprio in un locale della sua casa, Palazzo Fucci, in via Cavour, è stata inaugurata, alla presenza delle autorità cittadine, la Saletta Carla Fucci, uno spazio culturale ed artistico, i cui lavori erano iniziati quando ancora Carla era in vita, dove l'arte e la cultura volevano e troveranno continuità nel segno suo. Un dono alla città, come ha tenuto a sottolineare la stessa Maria Flora Gianmarioli, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare alle tante iniziative che organizzeremo. Carla Fucci, oltre alla figlia e alla sorella Ersilia, di 90 anni, lascia anche il marito, Antonio Gianmarioli.